So che ci sei rimasta male perché io adesso ho un bellissimo veicolo speciale e tu no Però ho deciso che visto che sono magnanimo Ma non è vero L'opportunità di giocarti il tuo veicolo speciale preferito Cosa bisogna fare? Ucciderti? Ammazzare tutti? Fare una sfida epica? Sarà una cosa molto complicata Tutto quello che è necessario per avere il mio veicolo fighissimo speciale Perché me lo merito, sono Ferenichi e mi merito un veicolo speciale Va bene E ragazzi come va? Io sono Ferenichi E io sono Stef e che segui come GTA V E oggi siamo qui con la sfida del secolo Una challenge che così non si è mai vista Prima di tutto perché sarà suddivisa in ben due episodi E seconda cosa ma non meno importante Ci sarà il monte premi in palio più alto di sempre Cosa volete di più? Cosa volete di più? 3 milioni e mezzo di dollari Cosa vuoi che siano? Cosa vuoi che siano? Li troviamo così in strada Guarda, li ho appena trovati Allora, spieghiamo tutto subito perché secondo me sono tutti super mega curiosi Allora, come funziona? Praticamente questa challenge è appunto in due parti Nella prima parte cerchiamo di vincere i 3 milioni e mezzo Insieme, collaborando Insieme, collaborando Nella seconda parte invece saremo uno contro l'altro Per decidere chi si becca quei 3 milioni e mezzo Che saranno destinati a un veicolo speciale di quelli che hanno giunto appunto da poco Finalmente, perché non esiste che in GTA io non ho ancora un veicolo E continueremo ad averlo Perché così Stefano sia il carro armato che un veicolo speciale Se non lo vinco, io lo uccido Lo dico ai consolini perché così se tu muori Lo so dicendo ai consolini perché così se tu muori Alla polizia viene a dirmi a qualcosa Almeno avrò i consolini che testimonieranno che io ho fatto bene Capite? Quindi non mi mettono in carcere e posso stare Funziona così il mondo, tranquilla Con i consolini funziona così Posso spiegare la sfida adesso? Ovvio Grazie mille che ogni tanto sei gentile Allora, la sfida funziona in questo modo Abbiamo 20 minuti per rubare dei veicoli specifici Che abbiamo scritto in una lista che è qua Che purtroppo non vedete perché c'è troppa luce E linkiamo tutto quello che c'è da rubare Quindi in 20 minuti noi dobbiamo rubare una macchina grigia Una macchina rossa, una macchina verde, una macchina bianca, una macchina nera Una moto, una macchina della polizia, un'ambulanza e un elicottero Ok, i primi sono anche semplici Gli altri sono tosti perché tipo per l'elicottero devi andare fino all'aeroporto E già quello ti prende tantissimo Probabilmente un quarto del tempo della sfida Quindi non sarà semplice Esattamente, quindi è a stafetta Praticamente uno non può superare questo punto Fin quando non torna l'altro a parcheggiare una macchina E andiamo una alla volta a rubare i veicoli Siamo pronti, bellissima? Sì, e infatti questa è la cosa più difficile Perché se andassimo insieme la finiremo molto prima E invece è proprio a stafetta Perché deve essere proprio una collaborazione al 100% Per fare quei soldoni che mettiamo in palio Inizio io, giusto per dire Voglio fare la macchina rossa, tanto è semplice Non devi dichiarare, tu vai in giro e se trovi una delle cose scritte Ah, non devo dichiarare, ok 3, 2, 1, avviato 20 minuti partiti Corro, corro, corro Corri Allora, questa rossa è parcheggiata qui Quindi sinceramente ne approfitto Perché no? Perfetto, dai veloce, veloce, veloce Appena lei supera questa riga io posso partire E vado a prendere qualcos'altro Allora, quindi ho bianca, verde, nera Ne ho tanti Ne ho tante tattucce Anche se vorrei già partire con qualcosa di particolare Ok, posso partire? Vai, 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 parcheggiata Io prendo la bianca Ma è bianco o grigia questa? Dobbiamo discutere sul colore È grigia, è grigia, è grigia È grigia, non vale No, abbiamo anche grigio Ah, ok, vabbè Allora Parcheggiala Ok, fatto Vai, 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 corri, corri, corri Ritocca a te Ritocca a te Io adesso parcheggio bene questa Mettite tutte vicino Faccio attenzione, mi raccomando Va bene, va bene Quindi, allora, qualsiasi cosa Vai, 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 non perderti in ciancio Non ti avevo visto, donnazione Eh, non mi hai visto perché sto troppo veloce Quindi è normale che non vedermi Ma quando vai? Ma quando vai? Allora, mi serve una macchina Il rosso ce l'abbiamo? Sì, abbiamo il rosso Abbiamo la grigia Che poi il grigio è bianca Quindi la rosso, vabbè Diciamo che il grigio è verde Ok Quindi puoi fare quello che vuoi Allora Ho rubato una macchina per andare in giro Questa è bianca, questa è bianca, questa è bianca Vieni qua Anzi, anche questa è bianca, aspetta Allora, decidi Sì, quindi una È piena di macchine bianche Ne ho appena vista anche una nera Questa è bianca, giusto? Non è grigia? No, è bianca Ok Allora, io sono ancora confusa sul colore di questa macchina Ti giuro che non riesco a vedere se è bianca o grigia Anche io ho un po' di dubbio No, perché, allora Quando c'è il sole diventa bianca È grigia No, no, è grigia Guarda, confrontale una fianco all'altra Ma è un grigio chiarissimo È un grigio chiarissimo Parti veloce, forza Vado, 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 vado Allora, di macchine semplici è rimasta solo la nera Se no, altrimenti puoi già fare la moto, la polizia o l'ambulanza Ascolta, io prendo una macchina, vado in giro Voglio provare a trovare una moto Ok Voglio provarci Va bene, va bene, va bene Se poi non la trovo, pazienza Prendo una macchina nera e torno Ok Cerco di non allontanarmi troppo Io aspetto qua Sono passati due minuti e trentacinque Ok E voi direte, oh, ma allora è troppo semplice Blah, 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 blah L'ho trovata L'elicottero sono almeno cinque minuti Non so perché Allora, non puoi tornare qua fino a quando non semini la polizia Aspetta, aspetta, sì E ovviamente l'ester ha tipo dieci minuti per poterlo riutilizzare Quindi te lo puoi giocare solo una volta La moto è un passaggio importante Era sinceramente la cosa che a me preoccupava di più di tutte Sì, anche a me preoccupava parecchio A parte l'elicottero Ma infatti ho avuto una fortuna incredibile Perché l'ho trovata proprio parcheggiata in un punto abbandonata L'ho vista di sfuggito Ho fatto, oh mio Dio, eccola lì E quindi sono scesa proprio correndo Adesso torno indietro, torno indietro Ok, veloce, veloce Appena seminata la polizia, quindi torno Vai Arrivata, vai, 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 vai Perfetto, parcheggia, ti lascio qua E io vado a cercare di prendere appunto l'elicottero Una macchina veloce, per favore Questa, 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 questa arancione La devo inseguire Sarà difficilissimo Scusi, scusi, in emergenza Devo fare una sfida importantissima qui Oh no, pure la polizia Mi ci mancava solo quello Cioè, guardate dove devo andare Quanti chilometri sono? 3,40 km Vabbè, vabbè Sono tipo 3 minuti solo per arrivare Devo entrare, devo rubare l'elicottero Devo tornare, devo parcheggiarlo Semplice Che bella la vita, che bella la vita Vabbè, per 3 milioni e mezzo mi sembra anche giusto Vabbè, dai, sì Per la sfida invece dell'uno contro uno, ragazzi Ancora non abbiamo deciso Quindi nei commenti potete proporci In che modo sfidarci appunto Per decidere chi si becca i 3 milioni e mezzo Ovviamente Se riusciamo a vincere Se riusciamo a vincere Certo, però dico nei commenti Sbizzarritevi 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 E consigliateci cose fighe da fare per l'uno contro uno Perché vogliamo qualcosa di epico Esatto, voglio qualcosa di molto particolare E di molto esagerato Quindi non lo so Dateci consigli Voglio proprio di quelle sfide Sì, così la mia vittoria sarà più gloriosa Hai ragione Dicevo che quando una la vede fa Oh mio Dio, questa sfida è fighissima Comunque ho appena trovato una moto anche io Quindi non sei l'eroina di questa challenge Invece lo sono Giusto per chiarire le cose La mia moto è più bella Mi ho già visto due Ok, sono all'aeroporto Ma è pieno di polizia che mi cerca È un problema Ovviamente, ovviamente No, è un problema Potrebbe la dittura ammazzarmi Prima che rubo l'elicottero Quindi Oh no C'è pure una guardia che mi vuole ammazzare Ma non è possibile Aspetta, aspetta, aspetta Non ci vogliono far vincere i soldi Su tutti i contro di noi Ok, ucciso, 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 ucciso Devo seminare la polizia Corri, Steph Dannazione Perché devo fare io la parte più difficile di questa sfida? Perché tu non hai la tastiera? Perché io non ho la tastiera Lo stanno ormai tutti Quindi è inutile che me lo richiedi Per guidare l'elicottero Quindi peggio per te Che mi hai comprato sta schifezza E io non lo posso guidare Altrimenti l'avrei fatto Perché saresti molto brava a guidarlo, vero? Tantissimo Te ne porterai cinque tutti assieme Proprio a fraino Assolutamente Va bene anche questo Sì, perché c'è solo questo E comunque un elicottero Giusto? Sì, sei un po' esagerato Non so perché Non ne potevi prendere uno un po' più semplice Perché non c'è Che te ne ho di Di solito non lo troviamo mai Adesso troviamo solo questo È andata così 6 minuti e 40 Quindi come minimo mi sa che Allora sei molto molto lontano Quindi Grazie Mi servivi tu per farmelo sapere No, giusto per dire muoviti Perché sono qui in disastro Prima hai utilizzato l'ester? Eh sì Ok, allora io cerco Isseminare la polizia senza Perché per prendere poi La macchina della polizia Servirà per forza Ammazzare poliziotti Ok E quindi puoi chiamare l'ester Mi sembra la tattica più giusta Manca anche il camion Mi ero dimenticato il camion Perché non mi hai detto Che c'era un camion? Perché non l'avevo letto Ci manca Quindi polizia Ambulanza e camion Dopo l'elicottero Cioè la lista l'hai fatta tu E non ti ricordi neanche Cosa hai fatto? E per quello li ho scritti Cioè questa è proprio La dimostrazione Che è la persona più ridicola Del mondo davvero Cioè hai gli occhiali per nulla Meno male che te li stai Per cambiare Perché davvero Non vedi una ceca Non sono proprio ordinato Scrivendo Io non so se adesso Si vede un pochettino Avete presente Quando andate dal medico Vi fa la ricetta E vi dite Come farà il farmacista A leggerlo Quella è la scrittura di Steph Lui poteva fare il medico Nella vita Solo per quanto scrive male Ve lo dico Sì ma non per il resto Perché non sarei in grado Di fare il medico Esatto esatto Però per la scrittura Solo per la scrittura Allora Potresti fare il segretario Del medico Che scrive male al posto suo Geniale Bellissimo Bellissimo Non farmi perdere in chiacchiere Perché qua Quanto manca Lo stavo ridendo Perché ti stai perdendo E nel mentre Sei in una sfida importantissima Esatto Eh dopo che parte Così? Va bene? E beh sì Non è che posso avvicinare le macchine Preciso è impossibile Con questo Vai 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 Tu tieni d'occhio le nostre bellissime macchine Che non ce le rubi qualcuno E certo che se no qualcuno ce le ruba Boh Esatto Allora Quindi abbiamo macchinina bianca Macchinina rossa Macchinina grigia Macchinina verde La moto che sta dietro Quel forristrada verde E un elicottero gigante L'elicottero è la parte più bella proprio 9 minuti e 40 Secondo me il camion è la parte più difficile Perché la polizia sai come farla arrivare Sì però comunque devi Prendere Rubare Chiamare l'ester Ce n'è Ce n'è Almeno due minutini Anche lì ci sono I camion sono sempre lentissimi Quindi piccolo problema Più ti allontani Più tempo ci metterai a tornare Siamo dimenticati la macchina nera Non che non l'ho scritta Ci siamo proprio dimenticati di prenderla Manca anche quella No Non ce la faremo mai No 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 Quindi macchina nera La potevi fare più semplice Dai ci vincevamo 3 milioni e mezzo Facili Ma ti sembra Se la pubblicità ti piace vincere facile Sì Facevamo la challenge del ti piace vincere facile Sì mi piace vincere facile Mi piace avere i soldi in modo facile Non lo troverò mai Anche così comunque è più semplice rispetto a formarli in questo gioco E che fare 3 milioni e mezzo ci metti 5 mesi guarda Dove sei finita? Trovato Trovato Sto girando da 2 ore Non ce la facevo più Siamo a 14 minuti No eh Vabbè è stato difficilissimo Sono dovuta andare lontanissimo Perché siamo in una zona abbastanza benestante E quindi non riusciamo a trovarlo subito Sei lontanissimo No E poi è lentissimo No 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 Corri 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 Ma non cammina Concentrati e pensa solo a correre Devi arrivare qua in un minuto Sì ma va a 10 all'ora Devi arrivare qua in un minuto Muoviti Ci provo Vai 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 Corro 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 Quindi polizia mi sposto almeno un pochettino Perché se la polizia arriva fino a qua È un disastro lo sai bene anche tu Allora scusi 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 mi deve dare la sua macchina Buongiorno Devo ammazzarla perché mi serve la polizia Sì 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 Ha ragione ha ragione ad arrabbiarsi Una pattuglia qua in zona Ce la stai facendo? Ho la stellina Ok 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 Mi ho visto una Mi ho visto una Li vado incontro invece che scappare In questo momento c'è pure un pullman Dannazione a te che hai sprecato 4 minuti Ma io ho girato anche da tutta quella parte Cioè ho appena passato un pullman qui di fronte Vedi te l'ho detto Sto per mettermi a piangere guarda Se perdiamo è colpa di Ferrenicchi Era difficilissimo da trovare È più difficile della moto Perché non siamo in una zona Hai fatto sia la moto che il camion Dai sei stata brava Allora io ho preso la macchina della polizia Sto chiamando l'Ester in questo momento Rimuovi il livello di sospetto Vai 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 Ok Ci sto osservando nel frattempo Eccomi Ok Ciao Allora vai 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 parti Io mentre la parcheggio bene Come accidenti posso trovare una Cosa faccio? Macchina nera ambulanza? Fai la macchina nera Fai la macchina nera Per l'ambulanza cerco di pensarci io come ultima Macchina grigia ce l'abbiamo Macchina rossa ce l'abbiamo Macchina verde ce l'abbiamo Macchina bianca ce l'abbiamo Macchina nera stai andando a cercarla La moto l'abbiamo Il camion lo abbiamo L'elicottero l'abbiamo La polizia ce l'abbiamo Di conseguenza mancano ambulanza e macchina nera Dai Ho visto No perché ho la polizia Accidente aspetta faccio Chiama l'Ester Chiama l'Ester Chiama l'Ester Si dovresti riuscire a farlo adesso Sono passati abbastanza minuti Aiuto No 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 Perché mi avete tamponato No Hai di nuovo le stelline Si sto andando via Sto andando via Sono indeciso se rischiare un po' E iniziare ad ammazzare una persona da qua Per far arrivare l'ambulanza Dici E che devo fare Ok 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 ce l'ho fatta ce l'ho fatta Ce l'ho fatta La polizia non si è accorta di me Ma sta arrivando una gang Ad ammazzarmi Io ci sono Ok 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 Sto parcheggiando Perfetto 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 E' appena scomparsa la moto Ok ho notato Non so perché Vabbè Vabbè c'era Ci sono le prove Che c'era E' arrivata la gang Ma mi è scomparsa anche il camion Eeeh Davvero? Si Ma dannazione Ma cosa sta succedendo Vabbè bug Comunque tanto Sapete benissimo Manca solo l'ambulanza E abbiamo un minuto da adesso Vai Direi che all'ambulanza Ho dato un motivo per arrivare qua Ok mi metto a guardare pure io Anche se non posso uscire fuori Ad aiutarti Esatto Devo ammazzare anche la polizia È l'unico modo Io ho ammazzato due pattuglie della polizia Ne stanno arrivando altre due Mamma mia quanto ne stanno arrivando Anche gli elicotteri E non vedo ambulanze Mi sa che abbiamo fallito E il fatto che sono scomparse tutte le macchine Secondo me è l'emblema della prova fallita Della tristezza 20 e 45 3 milioni e mezzo Persi Secondo me Se fai troppo casino con la polizia Anche secondo me L'ambulanza rimane a distanza Perché sarebbe troppo pericoloso venire Quindi dovevo capito Riuscire ad ammazzare giusto un civile E a quel punto sarebbero arrivati Esatto è quello che ho pensato anch'io Sì Dovevi farlo un po' più in silenzio Sì ma perché non è colpa mia Io ho ammazzato solo un civile E col civile la polizia neanche ce l'avevo È arrivata la gang del bosco Ad ammazzarmi E quindi ho dovuto ammazzare 8 persone È ovvio che così mi arriva la polizia Capito? È ovvio 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 Vabbè era difficile Era difficile Però mi è piaciuto un sacco Sì Allora io direi che secondo me Ci possiamo riprovare la prossima settimana Magari con la stessa sfida Ma con veicoli diversi Proposti dai consolini E vediamo un pochettino di riprovarti Sì no dai Io non rinuncio al veicolo Esatto Magari ci riproviamo Esatto Se i consolini ci consigliano dei veicoli particolari Magari ci riproviamo Ma un po' più difficile Così diciamo Non si perdona il fatto che comunque abbiamo fallito Perché altrimenti non è che fallisci Ci riprovi sempre È facile Quindi adesso io voglio che i consolini tutti insieme Ci consigliano dei veicoli particolari Tranne carri aromati No vabbè aspetta Le cose Se le cose a Forte Zancuro No Perché sono 10 minuti solo a Forte Zancuro Sarebbe impossibile Quindi anche macchine colorate Magari qualche modello di macchine in particolare Quindi proponete tutto Che la facciamo leggermente più difficile E vediamo Assicuratevi che sono cose che si possono trovare in giro Perché ovviamente Altrimenti è impossibile Quindi Mi raccomando Consigliateci nei commenti Fateci sapere se la sfida vi è piaciuta Peccato per il fallimento Per colpa dell'ambulanza Eh vabbè però dai Io dico che ci sta Perché comunque Sul l'impalio sono tanti Quindi cioè Riuscirci al primo colpo Forse sarebbe stato troppo semplice Quindi mi piace sta cosa di riprovarci Di riuscire a rifare È arrivata adesso Io la faccio esplodere Io adesso Faccio esplodere L'ambulanza Mi prendete in giro Ci avete fatto perdere 3 milioni e mezzo Quando servite non venite Cioè scappate Dai che è l'unica cosa che sapete fare Scappa Ma non so neanche dove sono poi Stanno scappando qua Ah sono là Scappa Massacrali Con la mazza da golf Bene che si inizia così Se giungi a sentci il mio like E se è la prima volta che avete visto il nostro video Potete considerare l'idea di iscrivervi Per non perdervi gli altri visioni Ciao Alla prossima Ciao ciao Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Grazie a tutti.